Soldi freschi in arrivo nelle casse della regione campania, 3 miliardi e 200 milioni che serviranno a pagare entro il 2014 i debitori di tutta la filiera istituzionale regione ed enti locali. Verranno così liquidate nel giro di sei mesi 18.000 fatture pregresse emesse da 1.500 fornitori, oltre 200 enti locali interessati. Una boccata di ossigeno per tutto il sistema campano delle imprese e non solo, ha annunciato il Presidente della regione campania Stefano Caldoro, che abbiamo ascoltato i nostri microfoni nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Santa Lucia per far luce su tale importante obiettivo raggiunto dalla nostra regione. Sì, sono 3 miliardi di liquidità quantomai immessi nella regione campania, significa imprese, significa cittadini, significa chi non è stato pagato per tanti anni, che ha situazioni di credito verso la regione e verso gli enti locali, perché noi diamo anche risorse ai comuni con questa misura. Tutta regionale, voluta dalla regione, di una situazione di virtuosa, perché ci sono risorse che noi paghiamo come debito, ma per coprire un debito commerciale, significa 3 punti di PIL, tanta ricchezza, che mi auguro possa generare nuova ricchezza, che venga reinvestita e non tenuta ferma come rendita non utile, ma che venga reinvestita nel mondo delle imprese, significa 3 punti di PIL, se va tutto bene, significano tanti posti di lavoro in più, tanta ricchezza in più per la nostra regione. Possiamo dire che abbiamo fatto l'unica regione italiana, perché le altre regioni non hanno potuto fare quello che abbiamo fatto noi, cioè avere questi 3 miliardi, trovare questi 3 miliardi senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, cioè senza chiedere a loro maggiori tasse o più imposte. Voi sapete che ogni volta che si trovano soldi in questo paese e si chiedono poi ai cittadini di pagarle con le imposte, la regione Campania è riuscita, con la sua politica attenta, credo virtuosa in questi anni, di poter avere questi 3 miliardi senza chiedere ai cittadini, senza mettere le mani in tasche dei cittadini.